Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui perché voglio raccontarvi la mia esperienza di parto, ovvero raccontarvi e rispondere a tante domande che io stessa mi ponevo prima ancora di partorire. Erano tantissime domande le mie, tantissimi quesiti, specialmente appunto quando noi siamo avuto figli, quindi il primo figlio, il primo parto, il primo tutto. Stessa mi andavo a guardare qualche video, ho fatto corso pre-parto, leggevo informazioni e quant'altro. Quindi sono qui anche poi per rispondere a tante domande che mi sono state fatte e poi vi dico subito che i video si guardateli, ma prendeteli con le pinze, nel senso che l'esperienza è a sé, ok? Ogni dolore è a sé. E poi specialmente io mi ero fatta, tra virgolette, un'idea e poi dopo è successo tutt'altro. Cioè a me parte è stata un po' una doccia fredda, è stato tutto improvviso, tutti i parti sono improvvisi, però è andato tutto in maniera non programmata, ecco. Quindi ci possiamo programmare, preparare la valigia per parto, eccetera, 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 ma poi dopo alla fine c'è sempre qualcosa che rovina i piani. Perché vi dico, io dovevo partorire la data presunta del parto era il 25 luglio, ma in realtà mi ero recata il 19 mattina per fare dei controlli appunto in prossimità del parto e mi hanno trovato la pressione molto molto alta che non scendeva nonostante mi davano il trandate appunto che serve per la pressione, trandate e anche altro. E quindi mi hanno detto noi vogliamo ricoverarti, ecco, quindi io già lì, come ricoverarmi? Cioè oggi non ho finito come? Perché? Scusate io non ho la valigia, non ho i capelli puliti, eccetera, eccetera. Vabbè ragazzi, veramente, cioè è stata una berzelletta e vogliamo ricoverarti e stasera inseriamo dei palloncini per stimolare il collo dell'utero e bla bla. Io, cioè ho detto oddio, ma come i palloncini? Cioè proprio non ne sapevo un cavolo di sta cosa, ero terrorizzata dai palloncini, è arrivata la sera praticamente, quindi mi hanno inserito questi due palloncini, uno più interno, uno più esterno e mi hanno detto mettiti l'anima in pace e ci vorrà tantissimo tempo per arrivare al parto, non è una cosa dall'oggi a domani, quindi con tutta tranquillità tu dovrai stare qua e aspettare il parto. Perché loro vogliono comunque indurti al parto ma in maniera molto molto delicata, naturale, senza appunto dar fastidio a creare disagio al bambino, alla mamma stessa e quant'altro. Quindi munisciti di pazienza che il procedimento è lungo, mi hanno detto. Tante ragazze non hanno la pazienza, vanno in crisi e quant'altro, quindi noi te lo diciamo prima, tu sai che devi avere tanta tanta pazienza. Ok, va bene, a posto. Mi hanno inserito i palloncini, la notte non ho dormito, un po' perché ero in camera in una situazione nuova, non avevo nessuno con me perché nella struttura dove io ho partorito praticamente la notte non poteva esserci nessuno, di giorno una sola persona alla volta e solo se il tuo compagno poteva restare più tempo, mentre in realtà chi ti veniva a trovare poteva venire a trovarti singolarmente appunto, munito sempre di mascherina e o la mattina presto, era un orario indecente perché dalle 6.30 alle 7.30 o al pomeriggio, un'ora solamente. Vabbè, comunque detto ciò io trascoro tutto il giorno del 20, del 20 luglio praticamente, ogni 4 ore dopo che mi hanno rimosso i palloncini mi davano un farmaco per andare appunto a stimolare il travaglio e questo farmaco ogni 4 ore era accompagnato anche da dei tracciati, per vedere appunto il battito del bambino e quant'altro, per tenere tutto sotto controllo. Procede così la mia giornata, alle 8 di sera mi dovevo recare appunto in sala tracciato per fare l'ultimo del giorno e avrei fatto questa procedura, mi hanno spiegato, per tre giorni. Al quarto giorno praticamente al posto di darmi questo farmaco in Viena mi davano direttamente l'ossitocina che poi è l'ormone appunto che va a stimolare il parto per farla breve e quindi niente, alle 8 di sera vado in sala tracciato, che erano le 8 perché mancavano pochi minuti per questo tracciato per l'ultimo del giorno, sento gocciolare e mi si erano praticamente rotte le acque ma da... mi sono accorta subito, anche qui era una cosa che mi chiedevo sempre ma come faccio ad accorgermi di qua, di là? No, io mi sono accorta subito che non erano perdite di pipì, che può anche capitare alla fine della gravidanza perché la pancia è veramente molto grande, calza molto sulla viscica e quindi potrebbe capitare di avere anche perdite di urina, è la verità e no, mi sono accorta subito che erano le acque e da lì... un casino di roba e anche lì erano tantissime acque, subito metti il pannolone, però nel mio caso non erano acque limpide e quindi mi hanno detto che la cosa non andava bene, dovevano accelerare la procedura quindi anche da lì mi hanno inserito, mi hanno messo il coso del tracciato e non me l'hanno più tolto l'ho tolto solo a mezzanotte perché mi hanno detto di proprio le osseteriche di fare una doccia calda e che poi ho dovuto fare questa doccia praticamente dove già mi erano partite le contrazioni perché dando l'ossitocina in vena partono bomba, me l'avevano detto che partivano subito, partivano forti e quindi mi hanno detto fai questa doccia calda per andare a rilassare un attimino tutto il corpo io devo dire la verità, non penso mi sia servita questa doccia almeno non ho questo ricordo di doccia rilassante anzi è stato tutto uno stress perché poi non l'ho potuta fare in camera mia la doccia perché comunque avevo una donna che aveva appena partorito due gemelli l'ho dovuta fare in un posto dove la doccia, non vi dico in che condizioni era e l'ho dovuta fare arrangiandomi praticamente cioè non era una doccia di piacere quella non era una doccia dove ti lavavi, era una doccia dove dovevi gettare l'acqua addosso, l'acqua calda poi c'era l'ostetrica, c'era la mia compagna, c'era troppa gente per i miei gusti e le mie condizioni attuali dove già non stavo bene e quindi dopo questa doccia mi portano in sala travaglio praticamente dove non mi sono più mossa mi hanno attaccato questo tracciato dove non mi è stato più tolto fino al momento del parto e ragazze da mezzanotte iniziano le contrazioni quelle forti mezzanotte, mezzanotte e mezza, le una, non lo so di preciso perché poi non avevo l'orologio anzi qui vi devo raccontare qualche cosa davvero divertente perché cioè sembra una bazelletta ma in realtà è la realtà, è la verità e iniziano le contrazioni forti, la situazione non cambia, anzi peggiora a livello di pressione, il battito per fortuna andava bene e quindi mi è stato detto dalla dottoressa che era in turno in quel momento che avevo, c'era il rischio e lei pensava appunto di farmi il cesario e c'era il rischio del cesario e quindi mi hanno detto onde evitare di trovarci impreparati, ti conviene fare l'epidurale io avevo fatto la procedura dell'epidurale l'avevo fatta anche se nella mia testa, anche qui avevo detto non la farò mai l'epidurale, mi faccio la procedura per avere una carta in più in caso di problemi, in caso di necessità e se è presentata la necessità quindi io terrorizzata dagli aghi, ho fatto tutti i nove mesi i prelievi, li ho sempre fatti, ho sempre fatto tutto anche in quei nove giorni che poi sono restata in ospedale tutte le mattine, non ho mai fatto difficoltà ho detto no, no, vi prego, basta, no ho sempre fatto tutto di dovere insomma però l'epidurale per dirvi a me spaventava tantissimo l'inserimento di questo piccolo catetore nella spina dorsale con un ago, in quel momento non lo so la pressione non me l'hanno detto ma sarà salita a 200 minimo, perché poi è tutto un insieme di cose e quindi niente, hanno fatto uscire il mio compagno in quel momento era lì e mi hanno messo questo catetere devo dire che non ho ricordi di dolore perché le contrazioni erano già molto molto forti ho un ricordo più che altro di persona poco garbata l'anestesista, non mi è piaciuto per niente ero un uomo ma non per quello, non mi è proprio piaciuto e mi ha spaventato invece di tranquillizzarmi capisco che ti devono mettere a corrente dei rischi io già li sapevo però comunque a spaventare una persona dove già è in prossimità del parto dove già è spaventata cioè ormai li sapevo i rischi loro sanno perché avevo il foglio già pronto dell'epidurale, già firmato, col consenso e tutto non me li andare a dire anche di nuovo me li ha ridetti comunque mi fa noi te lo inserisco però se entro due minuti hai la fruscita di un liquido mi ha detto un nome dalla schiena te lo devo subito rimuovere dimmi poi se ti senti muovere le gambe se le senti ancora perché sennò lo dobbiamo togliere e quindi cioè io ho detto come non mi devo più sentire le gambe per fortuna mi sentivo le gambe la fruscita del liquido non c'è stata e mi hanno dato una piccola dose di antidolorifico che mi hanno detto che andava data ogni 2-3 ore aumentando la dose ovviamente dell'antidolorifico iniziamo in maniera soft perché le contrazioni sono soft e poi ricordiamoci ricordatevi bene che l'epidurale non può essere fatta all'ultimo cioè non è che voi state male avete fatto travaglio e l'ultimo è basta non ne posso più chiedetele l'epidurale l'epidurale appunto è una cosa che va fatta nel giusto momento e va fatta innanzitutto su necessità perché sono contrari i sesso i dottori a farla cioè proprio in casi estremi e poi dipende c'è ogni scuola di pensiero però a me in quel momento era così e tutte le persone con cui ho parlato era così e niente quindi non possono darvi un anestetico perché voi dovete sentire cioè voi dovete collaborare durante il parto e niente il fatto sta che quindi mi hanno dato questa prima dose di antidolorifico leggera dove all'inizio non ha fatto effetto dopo 5-10 minuti iniziato a fare effetto e quella è stata la mezz'ora più bella di tutto il mio travaglio perché io per mezz'ora credetevi mi sono riposata gli avevano detto cerca di riposarti tra una contrazione e l'altra le mie contrazioni erano vicine cioè io non avevo un minuto di stacco io avevo la contrazione dopo 3 secondi ne avevo un'altra e io come potevo mai riposarmi cioè erano fortissime fortissime però con la mezz'ora di antidolorifico boh mio ragazzi non ho più sentito niente cioè io per mezz'ora non ho sentito niente perché era l'inizio del travaglio quindi le contrazioni erano leggere e mi viene da sorridere e pensavo che erano quelle forti a dire il vero perché erano già insopportabili man mano si fanno le 2-3 di notte le contrazioni erano fortissime mi dicono mettiti in piedi mettiti qua ma ricordatevi che avevo sempre il tracciato attaccato che comunque non è che potevo fare grandi posizioni anche reagire al dolore era un problema perché comunque si muoveva il tracciato quindi non si sentiva più battito del bambino cioè io praticamente dovevo soffrire dovevo stare come una mummia tutto il tempo è stato odioso questa cosa qui è stato odioso e a un certo punto siccome avevo già comunque l'epidurale il catetere inserito con un tubicino che spuntava dalla spalla io proprio ero disperata e dicevo in maniera veramente quasi prepotente chiamate l'anestesista perché comunque io sto male ho bisogno di un'altra dosi di antidolorifico e quando io dicevo queste cose a un certo punto erano passate comunque quelle tre ore e loro hanno chiamato l'anestesista che in quel momento era in sala operatoria quindi non poteva venirmi a fare la dosi di antidolorifico fatto sta, fatto sta passano le ore e arrivano le sette di mattina le sette di mattina è il cambio turno quindi sette di mattina mi va via l'anestesista mi va via la dottoressa mi va via l'ostetrica che mi ha seguito e boom non c'era più nessuno mi sono ritrovata da sola in sala travaglio con un dolore alle stelle un dolore alle stelle perché comunque io avevo l'ossitocina in vena attaccata e loro ogni tanto aprivano il rubinetto come cavolo si chiama e calava sempre di più io c'è il travaglio ragazzo non è il travaglio ma il travaglio ma il travaglio cioè è un dolore è un dolore forte cioè in ogni caso è stato un dolore troppo forte quindi io al prossimo parto semmai avrò un altro bambino credetemi l'epidurale ovviamente come vi ho detto prima se è il caso io lo chiedo lo farò la procedura perché quella mezz'ora la ricordo proprio come se fossi i presenti i drogatti che ha un momento di estasi bellissima quella mezz'ora fatto sta che comunque io dal dolore non ce la facevo più a stare sdraiata quindi mi sono alzata in piedi e cercavo di ondeggiare anche se il bambino già era in posizione di ondeggiare 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 per incanalarlo meglio perché comunque in tutto ciò non vi ho detto ma io non mi dilatavo cioè mi ero dilatata di due o tre centimetri mi dicevano e ancora ne mancavano tanti però a un certo punto a sette sette dieci io sentivo questa pressione sempre più forte che il bambino doveva uscire è una pressione di bisogno quando dovete andare in bagno a fare l'atto grande è quella la sensazione e quindi ce l'avevo sempre più forte e quindi a un certo punto ho urlato ho detto ma c'è qualcuno sto male devo partorire all'improvviso arriva l'ossettrica quella del cambio successivo che mi dice ma non eri dilatata mi ha detto la mia collega sdraiati sdraiati che vediamo subito mi sdraio mi dice sei pronta cira sei pronta per partorire spingi cosa? come? qui? ma come sono pronta? non ero dilatata c'è ragazzi sembra una bambina io non ero dilatata come sono pronta adesso però vi farete capire come riconoscete come il vostro corpo nonostante non abbiate mai partorito riconosce il segnale che è ora di partorire cioè io in quel momento ho detto è ora di farlo gli dicevo al mio compagno lo devo fare lo devo fare devo spingere e mamma mia mi passano i bevidi comunque niente poi è stato un parto bello è durato veramente pochissimo mezz'ora poco più di mezz'ora perché dalle 7 e 10 ho partorito alle 7 e 40 quindi mio figlio Sam è nato alle 7 e 40 di mattina e il parto poi dopo è molto molto soggettivo nel senso che il dolore del travaglio era stato tanto però quella mezz'ora dove avevo riposato mi ha fatto sì che avevo delle energie per spingere forte lei mi diceva spingi quando mi diceva spingi io spingevo e ascoltavo quello che mi veniva detto perché avevo già paura di lacerarmi e quant'altro e poi mi diceva devi spingere quando c'è la contrazione avevo le contrazioni vicinissime e poi quando spingevo mi era grappata ai maniglioni quelli esterni quando spingevo spingevo mio compagno mi diceva c'avevi una faccia tipo che faccia c'avevo quando spingevo spingevo lungo spingevo forte quindi l'estate che mi diceva sei bravissima cioè vai che con poche spinte lo fai e così è stato e quindi poi mi dicevano si vede la testa i capelli dai che ci sono i capelli e madonna che è stata un'emozione strana cioè io è come si cioè ero io nel mio corpo ma non ero io cioè non ero lì non ero lì cioè io spingevo perché reagivo a quello che mi veniva detto ma non ero lì cioè io non so dove ero cioè io ho partorito mi hanno passato subito il bambino ancora con il cordone tutto attaccato eccetera e io cioè ero presente col corpo ma non c'ero non so dove ero ero troppo non dico scioccata ma sono emozioni così forti che io non ero presente al 100% e quindi ero molto però presente su quello che dovevo fare ma non nel vivermi l'esperienza insieme per si è stata una cosa fortissima e poi vi ripeto solamente quando si vive questa cosa si riesce a capire quello che sto dicendo secondo me se mi fossi sentita dire queste parole prima ancora di partorino non capivo il senso ora lo capisco e credo che chi guarda questo video lo capisce può capirlo e quindi niente è nato mio figlio il cordone l'ha tagliato mio compagno lui era spaventatissimo nei mesi prima io non so se entro io non so se ce la faccio tagliare il cordone lui aveva paura che io soffri io non ce la faccio a gestire la situazione e quant'altro la fine era lì in prima linea davanti con l'ostetrica e mi è sembrato un parto fatto in casa ecco io pensavo all'ospedale tutti questi medici queste mascherine invece lei ha messo la mascherina e il camice alla fine dell'espulsione e basta quindi quando ho visto che è corsa a prendere il camice si è coperta perché lì in quel momento ovviamente esce la qualunque e ho detto no lo sto facendo sta uscendo è uscito e da lì è venuto fuori un piccolo imprevisto che non credo di dirvelo in questo video perché ormai è troppo tempo che parlo e farò un seguito a questo video a questo punto mio figlio per fortuna sta bene però diciamo che poteva anche andare meglio e quindi giù di lì io sono stata nove giorni in ospedale ma anche per me perché io non stavo bene non stavo bene le analisi erano tutte sballate è stato un po' stressante dover fare tutti questi prelievi dover prendere tutte queste medicine non sapere mai quando potevo ritornare a casa ero sempre da sola con questo neonato che diciamoci la verità bisogna conoscersi ci vuole tempo per conoscere una persona figuratevi una persona che non ha mai avuto un bambino io non ho mai avuto sorelle qualcuno vicino che cioè non ha mai cresciuto i figli di nessun altro non avrei avuto rapporti con bambini cioè era tutto nuovo per me è tutto nuovo a prescindere però comunque mi sono trovata un attimino spaisata e con tanta paura per tutto e anche perché cioè il bambino praticamente mi è stato portato via quasi subito cosa che invece mi avevano detto che in due ore restava con la mamma per creare un contatto di pelle a pelle per favorire subito l'allattamento e quant'altro cosa che nel mio caso non è stato possibile e mi dicevo per quanto mio figlio grazie a Dio sta bene però sono cose che puoi fare 3.000 test puoi fare 3.000 cose 3.000 controlli prima della gravidanza ma ci sono 7 cose che poi le scopri solo alla fine e quindi niente il video è venuto lunghissimo facciamo che ne faccia un altro un seguito si sono 20 minuti cerco di tagliare ma spero di riuscire comunque farò un seguito e e vi racconterò anche tutto il resto adesso non so ho parlato molto a random spero di avervi fatto capire qualcosa quando lo ricorderò mi renderò conto se è capito qualcosa oppure no comunque mi mando un bacione faccio un in bocca al lupo a tutte le future mamme chi sta ragionando questo video e spero che in qualche modo ah che poi non vi ho raccontato le cose simpatiche che vi volevo raccontare mannaggia parlando mi sono anche dimenticata allora il secondo video necessita per forza vi devo raccontare due dettagli molto simpatichi del mio simpatici del mio travaglio e poi vi racconto tutto il resto perché cioè ci vorrebbe veramente dovrei parlare per h24 perché se no non reggerebbe nessuno un video di 40 minuti quindi io preferisco spezzarlo vi mando un bacione e vi faccio un in bocca al lupo mamme ok